Il professor Zerbini è ordinario di storia romana e di storia antica all'Università di Ferrara e oltre ad essere uno storico è anche un archeologo. Il tema sul quale ci intratterrà è un tema importante, Augusto e Napoleone fondatori dell'Impero, quindi un contributo che si colloca tra due anniversari, l'anniversario bimillenario del bimillesimo dalla morte di Augusto e il bicentenario di Napoleone qua all'Elba, quindi abbiamo questi due poli dentro i quali poi si collocherà il contributo del professore. Grazie. Bene, grazie della presentazione. Debo dire che quando sono stato invitato da Sergio Palsania sono stato un po' in imbarazzo a parlare di Napoleone. Io che sono uno storico antico, mi occupo in modo particolare di romani e ho avuto dei maestri che mi hanno insegnato a rimanere nell'alveo dei miei studi. Ma concordo pienamente con Luciano Canfora in questi ultimi anni, ho anche, diciamo così, abbandonato i miei maestri, che la storia è un continuum e quindi ci consente anche, cercando di vedere altri periodi, di comprendere meglio quello che si studia. Ma ho superato questo imbarazzo, dicevo, facendo alcune riflessioni. Innanzitutto quello che hai opportunamente sottolineato, che caso vuole che celebriamo, o meglio, mi sento di dire, potevamo celebrare meglio a proposito di occasioni mancate, perdute, due ricorrenze importanti. Quella di Ottaviano Augusto, perché Augusto in fondo è un epiteto, io sono abituato da storico a parlare di Ottaviano Augusto, morto a Nola nel 14 d.C. e quindi festeggiamo duemila anni dalla morte. A Parigi c'è stata la stessa mostra che è stata fatta alle scuderie del Quirinale, ma non ho ben capito per quale motivo è stata tenuta aperta più tempo rispetto a quella italiana. Ahimè. Secondo anniversario sono i duecento anni dell'esilio di Napoleone all'Elba. L'altro motivo che mi ha indotto a superare l'imbarazzo è che i miei maestri di cui ho parlato sopra mi hanno sempre insegnato ad avere dei punti cardinali e gliene sono grato. Il primo punto sono le fonti, che sono gli occhi con cui noi guardiamo la storia. Sono i nostri testimoni oculari, se vogliamo. Apro un inciso a questo proposito. Ho molto apprezzato l'intervento sugli oggetti di Napoleone. Lo storico moderno, lo storico contemporaneo, vive una situazione fortunata perché ha a disposizione molte fonti che lo storico antico, ahimè, non ha. E quindi quelli che noi ritroviamo nei contesti archeologici sono reperti, che sono poi sostanzialmente gli oggetti importanti che abbiamo visto di Napoleone al Museo Napoleonico di Roma. Perché dico questo? Perché talvolta lo storico contemporaneo dimentica di considerare adeguatamente la valenza di quegli oggetti, tutto proiettato magari sulle fonti scritte. Nello specifico, quegli oggetti, a mio giudizio, hanno un valore ancora più importante perché avete sentito con quale cura li archivia per lasciargli al figlio. Quindi questo dimostra un elemento importante che attraverso quegli oggetti Napoleone vuole in qualche modo presentare se stesso. E quindi è una scelta, ritengo, importante anche per comprendere quello che è l'uomo. Ed è quello su cui sostanzialmente focalizzerò il mio intervento cercando di rimanere nei tempi. L'uomo appunto. L'uomo Napoleone. Perché molto spesso noi storici siamo abituati a considerare le fonti, talvolta in maniera un po' asettica, e dimentichiamo, perdiamo di vista l'uomo. Che è l'elemento fondamentale da considerare. E nell'uomo ovviamente anche gli anni della formazione appunto. Superato questo imbarazzo ho cercato di capire quelli che erano gli elementi di assonanza, di consonanza con l'antichità che è stata più volte richiamata anche negli interventi di ieri. Avete visto, avete sentito questo, possiamo dire, anche amore che Napoleone aveva nei riguardi della storia antica, in modo particolare della storia romana. E quindi mi sono anche chiesto per quali motivi questo e per quali motivi anche scelga alcuni anziché altri per rappresentare in qualche modo se stesso. parlerò dopo del pressì, cioè quel compendio in cui parla delle guerre di Cesare, che è una sorta di, a mio giudizio, ma non sono un esperto di storia napoleonica, è una sorta di testamento, una vita parallela incompiuta con Cesare. Non so se da questo punto di vista qualcuno è d'accordo con me. E a proposito della centralità della storia antica, della storia romana, leggo quello che Napoleone stesso scrisse a proposito della sua richiesta fatta al bibliotecario Antoine Alexandre Barbier della Bibliothèque des Voyages. L'imperatore sente quotidianamente il bisogno di poter disporre di una biblioteca da viaggio. Ieri è stato detto che Napoleone non era un uomo colto, certamente, ma non è da tutti, poi non è da tutti i, mi viene da dire, viri militares preoccuparsi di avere una biblioteca da viaggio. Quindi, a mio giudizio, se non era un uomo colto, era un uomo quantomeno avido di letture. Questa è l'impressione che io me ne sono fatto e a maggior ragione da quello che scrive. L'imperatore sente quotidianamente il bisogno di poter disporre di una biblioteca da viaggio composta di opere di storia. I tremila volumi saranno collocati in trenta casse. La precisione è maniacale. di Napoleone, che è un elemento che mi ha colpito, non so se siete concordi con me, che è la precisione del capo, che ritroviamo anche in Ottaviano Augusto, altro personaggio molto preciso. Ogni cassa comporterà tre file di libri, ogni fila conterà trentatré volumi. È una precisione assolutamente maniacale. potrebbe suddividersi in cinque o sei parti. La prima, leggo le prime tre che ci interessano, cronologia e storia universale. La seconda, storia antica nei testi originali, e sottolineo questo, anche se in traduzione, perché adesso non leggo la parte successiva di questo promemoria inviato al bibliotecario in cui dice che le edizioni dovevano essere di un determinato formato, di un certo numero di pagine, quattrocento al massimo cinquecento, e poi dava indicazioni anche relativamente alle traduzioni, perché ovviamente le leggeva in traduzione. Storia antica, dicevo, la seconda sezione nei testi originali e storia antica narrata dai moderni. La terza sezione, storia del basso impero nei testi originali e narrata dai moderni. Ecco quindi che si evince da qui e da tanti altri libri, abbiamo sentito ieri a proposito della biblioteca disiecta membra, dispersa ormai in tanti rivoli, ma comunque che amava, potremmo dire, i classici. E che cosa gli interessava poi della storia romana? Beh, gli interessava, in ragione del suo pragmatismo, gli interessava ciò che era utile, perché questo lo accomuna anche Augusto. Augusto ha 18 anni, ha la capacità di tener testa a delle persone di lunga militanza e di grande esperienza. e in un certo senso potremmo fare le stesse considerazioni anche per Napoleone, perché quando gli viene dato l'incarico per la campagna, quella che diverrà la campagna d'Italia, riesce in pochissimo tempo ad ottenere dei risultati eclatanti, senza avere poi dei grandissimi trascorsi militari. e quindi sicuramente Napoleone si è abbeverato alla storia romana anche per cercare di avere dei modelli di riferimento, era un amante come tanti di quella generazione delle vite parallele di Plutarco, ma anche relativamente alla strategia mi sento di dire, ad esempio egli prese molti riferimenti, molti insegnamenti dai romani relativamente al modo di condurre le guerre, a quella che viene definita la logistica, anche se per la verità dai romani, se vogliamo fare qualche riferimento, una comparazione molto banale tra l'esercito romano e l'esercito napoleonico, Napoleone non ebbe mai una grande attenzione per quello che era un elemento fondamentale per l'esercito romano vale a dire il vettovagliamento. Le sue furono guerre conosciute nella strategia militare, gran parte lampo, veloci, in cui il vettovagliamento non era una componente importante e forse questo può essere considerato come un punto debole dell'esercito napoleonico e un punto forte dell'esercito romano, basti vedere la colonna traiana per capire il dietro le quinte di quello che era l'assetto logistico strategico e di vettovagliamento dei romani. Quindi in sostanza l'esempio dell'antica Roma era sempre presente sin dagli inizi della sua formazione e quindi lo accompagna potremmo dire per tutti gli anni della sua vita. Leggo quello che dice a questo proposito uno storico francese Louis Madeleine vissuto nel 1871 nacque e morì nel 1956 che fu lo storico uno storico importante della rivoluzione francese il quale dice Napoleone fu romano fin nel midollo egli ne ha il sangue ne ha il profilo del romano antico egli ha il gusto della grandezza la passione del dominio l'immaginazione sconfinata unita talvolta al più spietato realismo egli ha la legge romana stampata nel cervello e nelle sue decisioni nel suo stile nel suo modo di governare egli ha la maniera romana e poi dice e su questo non si è d'accordo è la Roma imperiale che soprattutto lo attira che cosa dice sostanzialmente scusate Louis Madeleine che in fondo i cromosomi di Napoleone sono cromosomi italiani e quindi c'è questo legame ideale con la cultura romana che è ben evidente nel momento in cui egli focalizza l'attenzione appunto su di essa non si è d'accordo sulla Roma imperiale perché per la verità la Roma imperiale per Napoleone non rivestì un grande interesse la prima parte del periodo imperiale sì arriveremo poi a parlare di Augusto ma poi la Roma imperiale un periodo di situazioni talvolta di anarchia certo l'interesse per i romani si spiega anche in ragione di quella che era la componente l'ingrediente essenziale che contraddistingue la figura di Napoleone il pragmatismo il pragmatismo dei romani sono le strade e le leggi e per Napoleone l'esempio dei romani in tal senso è molto importante perché le strade e le leggi rientreranno poi nel momento nel periodo del cosiddetto grande impero come un forte elemento di coesione nazionale la sua attenzione alle strade appunto agli ingegneri a cui diede disposizioni per studiare le strade romane le leggi ma è inutile sottolineare l'importanza del codice napoleonico non fu Napoleone a iniziare il cammino del codice napoleonico ma ebbe il merito di portarlo a compimento e il codice napoleonico che che se ne dica fu in Europa il codice civile di riferimento a cui molti altri paesi si uniformarono quindi il richiamo della tradizione di Roma antica che poi si sovrappose all'eredità carolingia si afferma come il fulcro istituzionale e simbolico di quella concezione del grande impero che verrà appunto ripresa da Napoleone o detto istituzionale ma anche simbolico perché i simboli che verranno presi a riferimento come appunto l'Aquila con il decreto del 10 luglio 1804 sarà importante nonostante il consiglio di stato avesse suggerito di prendere come simbolo il gallo l'Aquila che in qualche modo lo riconnette direttamente ai romani e poi anche evidentemente al sacro romano impero di Carlo Magno ma anche l'Ape perché l'Ape è il simbolo dell'operosità dell'operosità comunitaria e anch'essa simbolo utilizzato dai merovingi leggo sempre in ragione di questo legame ideale di Napoleone con la romanità quello che scrive un altro storico francese Albert Sorelli cui estremi cronologici sono 1842 1906 la concezione del grande impero è tutta romana come la repubblica dalla quale deriva richiama l'impero romano perché le condizioni sono analoghe identiche alle scena e limitate sono le combinazioni delle forme di governo degli uomini esso procede da Roma attraverso Carlo Magno è l'impero di Diocleziano per il tipo di amministrazione per i codici per tutto il meccanismo del governo Carlo Magno fornisce l'ideale leggendario Diocleziano gli elementi concreti gli strumenti di governo riferimento a Diocleziano che è un riferimento che ci aspettiamo nella misura in cui appunto la riforma amministrativa che Napoleone attuò codice napoleonico delle leggi e quindi Sorel fa questi riferimenti all'imperatore Diocleziano ma in sostanza quali furono i modelli di riferimento per Napoleone arrivando alla sintesi di questo mio intervento innanzitutto Cesare Cesare è il condottiero comandante con cui egli si sente maggiormente in sintonia e non è casuale che egli nei primi mesi del 1819 fa dettare a Marchand le preside guerre di Cesar in cui riflette sulle guerre di Cesare in Gallia allora non è casuale che scelga Cesare e non è ovviamente casuale che scelga proprio le guerre galliche addirittura inizia il proprio racconto dal momento vivo della guerra si sente in profonda sintonia con Cesare Cesare ha combattuto ininterrottamente si può dire dal 58 al 44 avanti Cristo Napoleone dal 1792 al 1815 combatte pressoché ininterrottamente ad eccezione se non vado errato di 25 mesi periodo 1802 1830 e i giorni all'elba quindi si sente in sostanza come Cesare un vir militaris cioè un uomo appunto che è un soldato sostanzialmente e non è casuale che entrambi abbiano la stessa possiamo dire strategia nell'arte del comando sia Cesare sia Napoleone fanno sentire la loro presenza presso i propri milites i propri soldati era una consuetudine sia per Cesare sia per Napoleone di andare in mezzo ai soldati a sentire il loro umore una cosa che faceva molto sapientemente Napoleone per fare capire che appunto il comandante era loro vicino e questo inizio proprio nelle guerre galliche è un modo per fare capire che così come le guerre galliche hanno rappresentato diciamo la preparazione della presa di potere per Cesare la stessa cosa possiamo dire per la campagna d'Italia ma non solo appunto c'è questa attenzione anche su Cesare per indirettamente implicitamente parlavo prima di una vita parallela in qualche modo implicita per misurare anche la propria situazione siamo nel 1819 ormai è il momento in cui Napoleone riflette su di sé sulla sulla sua esperienza e il riferimento a Cesare e non ad Augusto è anche in ragione del fatto che sappiamo quella che fu la fine di Cesare e sappiamo anche la delusione ovviamente di Augusto quindi c'è questa consonanza per cui sceglie Cesare e non sceglie ad esempio un altro grande condottiero dell'antichità come poteva essere Alessandro Alessandro Magno quindi si sente in profonda sintonia ma del resto questo accostamento a Cesare lo ritroviamo poi anche nel termine cesarismo che nasce alla metà dell'Ottocento nasce in Francia coniato da Auguste Romieux il quale nel 1850 nell'Ere del César parla appunto utilizza questo termine per definire il potere personale di Napoleone all'indomani del 18 Brumeaio e quindi appunto c'è questo accostamento tra Cesare e Napoleone tra cesarismo e buonapartismo ieri Luciano Canfora non vi leggo perché non c'è il tempo ha segnalato il riferimento a Marx a proposito della riflessione sul cesarismo la lucida analisi che viene fatta di questo termine anche da Gramsci appunto il quale proprio a proposito del cesarismo progressivo usa questi termini cita Cesare e Napoleone come riferimenti mentre per il cesarismo regressivo cita Napoleone III e Bismarck come appunto è stato sottolineato anche ieri nel 1804 l'ascesa di Napoleone alla dignità imperiale induce molti a quel tempo ad accostarlo ad Augusto accostarlo ad Augusto perché in tal senso mettono in evidenza come attraverso l'autoritas sia Augusto sia Napoleone sono riusciti ad ottenere il potere e quindi arrivo sono arrivato in sostanza al titolo Augusto e Napoleone fondatori dell'impero per la verità Augusto non ha fondato l'impero Augusto di grande lucidità di grande realismo politico era ben consapevole che il senato romano e anche il populus romano non potevano accettare un monarca un monarca di tipo orientale quello che in sostanza costò la vita al padre adottivo Cesare e quindi non fondò l'impero fondò il principato Augusto è un princeps cioè svuota dall'interno le istituzioni repubblicane progressivamente arroga su di sé dei poteri che formalmente non vanno ad intaccare quelli che erano gli ideali ormai morenti repubblicani ma sostanzialmente controllava la situazione questa fase almeno sino all'imperatore Vespasiano il quale con l'alex de imperio Vespasiani sancirà all'inizio dell'età imperiale appunto questa fase viene definita principato da princeps quello che invece Napoleone non farà nel senso che Napoleone fu certamente rispetto ad Augusto un più abile comandante militare Augusto mi dispiace deludere chi ama Augusto sul piano militare non era così preparato ebbe la fortuna di avere a grippa subì anche delle sconfitte significative certamente se la cavava ma sul piano della strategia della capacità militare Napoleone era indubbiamente superiore ma sul piano del realismo politico aveva senza dubbio una maggiore attenzione al contesto mi sono chiesto come mai questa non adeguata a mio giudizio attenzione da parte di Napoleone del contesto probabilmente hanno influito molto in molti anni di guerre che non gli hanno consentito di controllare da vicino le situazioni quelle che invece fece opportunamente Augusto l'impressione che io ho è che Napoleone sostanzialmente sia nel periodo dell'acme del suo potere sia nel momento della disfatta sia un uomo solo non so se avete la medesima impressione tant'è che la fortuna di Napoleone si spiega a mio giudizio anche in ragione del fatto che Napoleone sembra quasi un eroe romantico la sua fortuna nasce proprio alla metà dell'ottocento Augusto era uno che sapeva delle gare era consapevole che aveva necessità di delegare e quindi Agrippa che fu fondamentale e anche per quanto riguarda la cosiddetta politica culturale mecenate ed altri collaboratori mi viene questo proposito da pensare spero di non dilungarmi troppo anche alle rappresentazioni iconografiche sia di Augusto sia di Napoleone Augusto non si sarebbe mai fatto rappresentare nell'atto di auto incoronarsi perché il senato il popolo romano non gli avrebbe consentito tant'è che noi stessi quando scriviamo di Augusto e anche di altri imperatori che regnarono non è corretto sul piano storico perché è un impero quello romano di cives romani che non avrebbero mai accettato un potere forte come quello che poi impose Napoleone quindi se pensiamo ai ritratti alle immagini scusate alle statue meglio che noi abbiamo di Augusto dobbiamo pensare all'Augusto di prima porta che è composto anche nel momento in cui dimostra di essere un comandante militare oppure ancora meglio per fare la comparazione con l'incoronazione di David oppure l'Augusto di Via Labicana Augusto velato nelle sue funzioni di pontefice massimo se pensiamo che Napoleone quasi volta le spalle al Papa capiamo quale distanza c'è tra i due ho pensato anche poi per arrivare alla sintesi di vedere una sorta di rapida comparazione tra questi due personaggi anche nella vita privata perché molto è stato detto di Josephine Bourne ma è certo che fu importante per Napoleone perché gli consentì di aprire molte strade di diventare non sono un esperto quindi non posso valutare l'entità di quello che affermo quantomeno di consolidare il suo rapporto con Barrà sicuramente avrà avuto un peso importante nel momento in cui gli fu assegnata la possibilità di comandare l'armata in Italia sicuramente e lo sappiamo ebbe un ruolo importante anche a proposito del 18 Brumaio perché se non vado errato trattenne Giusefin Goyer che era uno dei membri più autorevoli del direttorio non sto a dire come lo trattenne evidentemente sembra piuttosto chiaro ma nemmeno Augusto andava per il sottile con le donne perché era così morigerato ma se pensiamo che divorziò dalla moglie Scribonia nel momento in cui ella dava alla luce la figlia Giulia lo stesso giorno divorziò oppure si sposò con Livia che ebbe un ruolo fondamentale nella sua vita tanto che visse 51 anni è una sorta di record per un imperatore romano si sposò con Livia tre giorni dopo che ebbe il figlio dal marito precedente e si sposò anche egli per avere l'appoggio della potente famiglia dei Claudi quindi da questo punto di vista non furono poi così dissimili su altri piani potremmo fare altre considerazioni non c'è il tempo mi soffermo sull'attenzione che comunque sia Augusto sia Napoleone hanno avuto nei riguardi del consenso della propaganda mi viene da pensare ai resoconti ai giornali che Napoleone produsse sia durante le campagne in cui affidava proprio la sua forza propagandistica e poi nel momento in cui divenne imperatore sappiamo benissimo che ci fu una sorta di censura anzi senza sorta sulla stampa tant'è che di 13 giornali a paregine rimasero 4 tra cui il monitor che era la voce ufficiale diciamo così dell'imperatore anche qui Augusto fu più capace forse sulla propaganda nel senso che fu più attento nel evitare di urtare quella che era la sensibilità repubblicana che comunque tutti quanti avevano certamente anche Napoleone fu molto capace in questo ma non aveva forse quel legame diretto che aveva Augusto nei riguardi del popolo che gli consultava in questo senso per Napoleone c'era la vicinanza con il popolo nei momenti fondamentali della sua ascesa politica 18 Brumaio il momento in cui appunto si passa al consolato a vita il momento in cui si si fa imperatore consulta attraverso il referendum ma penso al referendum del 18 Brumaio se non vado errato 3 milioni votarono per il sì poco più di 1500 per il no ma ben 4 milioni furono gli astenuti e quindi diciamo che lo strumento del referendum non porta fortuna nemmeno a quei tempi sostanzialmente ma quello era il modo per Napoleone per avere un monitoraggio un termometro della situazione generale per arrivare in sostanza alla conclusione del mio intervento certamente Napoleone si sente più vicino a Cesare sotto molteplici punti di vista anche per quanto riguarda il destino conclusivo e non è casuale che prenda riferimento Augusto perché ebbe maggior fortuna nella sua maggiore capacità forse di pianificare meglio nel non acquisire almeno formalmente un potere autocratico autoritario come quello che assunse Napoleone non pensò ad altri mi viene mi fa specie che non pensò a Traiano che comunque rappresenta un altro modello di riferimento soprattutto sul piano militare sul piano logistico ma è evidente che Traiano in qualche modo non rappresentava quelli che erano gli aspetti su cui Napoleone focalizzava maggiormente la sua attenzione anche perché poi sia Cesare sia Augusto ebbero in comune con Napoleone anche la gioventù questo non si può dire per Traiano che assunse il potere diciamo già maturo ma quello che è elemento che in qualche modo mi ha fatto riflettere anche la conclusione che egli affida appunto nel presì cioè in quel compendio sulle guerre galliche di cui c'è una traduzione italiana casa editrice Salerno le guerre di Cesare c'è anche un bellissimo intervento di Luciano Canfora sui dittatori democratici se non vado errato questo è il titolo e Napoleone scrive Cesare vincitore governò come console dittatore o tribuno confermò quindi invece di calpestarne invece di calpestarne confermò le antiche istituzioni repubblicane dopo i successi seguiti al passaggio del rubicone Cesare non ha fatto nulla per mutare le forme della repubblica lo stesso Augusto non ebbe mai l'idea di innalzare un trono perché l'idea di ricoprire una dignità odiosa e disprezzata non poteva formarsi nel padrone di un grande stato questa conclusione l'ultima pagina del presidio in qualche modo a mio giudizio sembra quasi una sorta di ammissione di colpa da parte di Napoleone perché se Cesare se Augusto non hanno cambiato nella nella forma cioè nella sostanza sì nella forma no le istituzioni repubblicane questo coraggio Napoleone l'ha avuto e quindi se vogliamo fare una comparazione tra questi personaggi mi viene da pensare appunto che Napoleone era un uomo di azione e nell'azione talvolta è venuta meno soprattutto sul piano istituzionale ritengo una lucidità che avrebbe dovuto avere nei momenti fondamentali della sua esperienza politica Augusto invece era un uomo di pensiero grazie siamo ampiamente nei tempi ringrazio sinceramente per questa dotta dissertazione il professor Zerbini c'è spazio per qualche contributo vedo che Valzania ha già impugnato il microfono e quindi a lui la parola volevo fare una piccola riflessione sul povero Napoleone mentre Cesare e Augusto si confrontavano con istituzioni secolari Napoleone non aveva un fiume nel quale incanalarsi quindi doveva un po' arrangiarsi con le sue mani però quello che mi incuriosiva mi interessava era come mai c'è il disastro mediatico di Augusto perché Augusto in nessun modo Ottaviano Augusto viene raffigurato come un grandissimo della storia cioè ci si impegna eppure è uno che ha davvero accomandato ha governato un sacco di tempo ci ha anche provato perché l'Arapacis tutte queste cose c'è anche uno sforzo mediatico gli manca la guerra ma in realtà lui le vince anche delle guerre non le vince per interposta persona ma tanti l'hanno fatto però appunto in nessuno dei dei pantheon dei grandi dei grandi conquistatori dei creatori di imperi Augusto riesce a trovare un posto era antipatico qual è proprio c'è un disastro mediatico perché a fronte di un successo politico gigantesco straordinario crea un impero che se si va con quello d'Oriente dura 1500 anni però è come se avesse avuto un cattivo ufficio stampa ecco per fare una sintesi no è opportuna questa domanda si diceva anche poco fa in ragione di come noi italiani che in questo siamo anche piuttosto bravi non valorizziamo appieno le ricorrenze ma dipende dai contesti dai periodi storici eccetera sicuramente si ha una maggiore consonanza con i vinti dicevo prima Napoleone è un po' un eroe romantico Augusto è un personaggio di grande lucidità dal punto di vista del realismo politico credo che non ha uguali perché non dobbiamo dimenticare che era un ragazzo a 18 anni e la scelta lo si diceva anche ieri Luciano Canfora se non vado errato di Cesare che tra gli altri meriti ebbe quello di addocchiare questo ragazzo se lo addocchiò significa che comunque aveva già dato prova di grandi capacità ma noi amiamo sostanzialmente i grandi generali coloro che hanno avuto vittorie eclatanti sul campo di battaglia di cui poi la storia romana è particolarmente ricca è giusto quello che tu dici che dal punto di vista istituzionale ha fatto una cosa di straordinaria capacità ed intelligenza perché ha svuotato come dicevo prima le istituzioni dal loro interno ha riservato per sé due poteri che poi non infastidivano nessuno che era la tribunicia potestas potere di comandare gli eserciti ma se l'era conquistato sul campo perché dopo il 2 settembre del 31 avanti Cristo non aveva più avversari e poi la sacrosantitas l'inviolabilità della persona con questi due poteri riuscì in sostanza a controllare il senato ben diverso la situazione di Napoleone che come primo console aveva sostanzialmente poteri illimitati probabilmente è vero quello che tu dici che comunque nonostante questo non non ha avuto un buon ufficio stampa anche se lasciò quel suo testamento questo più diretto che sono le rest Gesta e Divi Augusti in cui egli racconta di sé racconta in maniera ideologica propagandistica forse questo ci allontana anche nel momento in cui uno si esalta cosa che non fece Napoleone né pressì ma poi oltre a questi aspetti c'è da considerare che è una fase di 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 transizione certamente certamente influì in maniera straordinaria sulla storia di Roma perché ormai come hai detto opportunamente tu le istituzioni repubblicane erano logore e quindi con tutta probabilità Ottaviano Augusto consentì all'impero di durare di più grazie alla sua invenzione che fu il principato ma forse abbiamo di Augusto un'idea talvolta di doppiezza io ricordo quello che dice Svetonio le ultime parole di Augusto sono quelle ho recitato bene e questo ci fa capire comunque il personaggio non ha goduto di grande stampa nonostante avesse gestito in maniera abile il consenso anche culturale attraverso il circolo di mecenate insomma se c'è qualcuno che deve fare una domanda se no approfitterei del microfono per farne una io devo alzare la voce mi rifaccio ai contributi di ieri ancora Canfora parlava appunto di Napoleone come il capo carismatico ecco il parallelo con 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 Augusto entrambi come dire si sono trovati Napoleone e Augusto attorno all'autoritas però questa autoritas mi pare che venga poi dai due inverati in un modo in un modo diverso a Augusto forse non era un capo si può definire capo carismatico alla napoleonica per dirla così cesarismo bonapartismo l'autoritas è l'autoritas di chi vince di chi è un grande comandante forse implicitamente c'è anche la risposta alla domanda di Sergio cioè forse la notorietà non a caso parliamo di cesarismo e non abbiamo riferimenti ad Augusto l'autoritas di Augusto è un'autoritas sul piano politico l'autoritas di Cesare e di Napoleone è sul piano militare che è quello che diciamo rende più vivide le nostre passioni le nostre fantasie rendono più vivi i personaggi storici sia per quanto riguarda il periodo romano sia per quanto riguarda Napoleone ci infiammiamo di più per chi è un grande generale rispetto a chi è un abile stratega e un intelligente politico grazie grazie grazie